originario di Osimo lo scorso anno alla guida della San Giustese fino a gennaio. Senigallesi vince la concorrenza di Matteo Vullo e di altri tecnici che erano in lizza per la panchina granata. L'ufficialità di Senigallesi è giunta in mattinata dopo giorni di riflessione e summit societari. L'ultima riunione in ordine di tempo si è tenuta proprio ieri sera. L'agnone dunque può entrare in una fase operativa, lo fa con un certo ritardo sulla tabella di marcia ma i dirigenti hanno sempre assicurato che di calciatori ne erano stati comunque fermati quantomeno a livello verbale. Ricordiamo la notizia d'apertura dunque Senigallesi è il nuovo trainer granata attesi anche altri nomi legati ad altre cariche come quella di presidente e direttore sportivo dell'Olimpia agnonese. Per il campo basso Mandragora e De Angelis stanno provando a completare il puzzle a disposizione di Cudini in gran parte già messo a punto grazie alle riconferme dal passato campionato. Va detto che la dirigenza vuole che il tecnico disponga di una squadra adattabile alle esigenze del momento ma che soprattutto lo stesso Cudini possa gestire al meglio la situazione legata ai fuori quota. Ecco il motivo per cui un portiere ed un attaccante saranno gli under più giovani. Il portiere Piga ed il centrocampista Corda arrivati lunedì scorso in Molise verranno tesserati a giorni. Soltanto qualche cavillo burocratico ne frena la firma ufficiale sul contratto. Anche il difensore Capozzo è in prova e pare stia suscitando una buona impressione. Potrebbe essere destinato anche egli al rosso-blu. Allenamenti con il gruppo pure per l'under di prospettiva Stefano Nadeo. La giovane punta è di proprietà del Bologna. Il campo basso intende chiudere per il fine settimana. Allo stesso modo si sta restringendo il campo per la prima punta. Ferrario dovrebbe rimanere in Lega Pro molto probabilmente alla Gianna Erminio. Rimane in piedi la trattativa per Sforzini 36 anni originario di Tivoli e con un passato di tutto rispetto nel professionismo. Il campo basso starebbe attendendo una risposta da Sforzini che si sarebbe riservato una decisione non solo per ragioni economiche ma anche personali. Il giocatore risiede in provincia di Viterbo dovrebbe comunicare a giorni le proprie deliberazioni alla società rosso-blu. In caso di risposta affermativa da parte di Sforzini il campo basso sarebbe praticamente fatto. La società tramite la propria pagina facebook ha dato delle anticipazioni sulla nuova maglia che la squadra indosserà con bordi verticali in rosso-blu. A primo impatto visivo appare davvero una maglia molto bella. La società che ne ha diffuso alcune immagini dovrebbe presentarla nel corso di una conferenza stampa. Il vasto Girardi ha ripreso a lavorare in quel di Fornelli. Mister Prosperi sta tenendo sotto torchio i suoi giocatori. Doppia seduta prevista per oggi e domani. La dirigenza racconta di un gruppo giovane e motivato, fortemente intenzionato a rappresentare la sorpresa in positivo della quarta serie così come è stato nello scorso campionato. Domenica prossima la squadra di Prosperi sarà impegnata in un'amichevole contro il Fasano. Intanto proprio ieri la Lega nazionali dilettanti ha reso note altri tre ripescaggi. Si tratta del Corticella, del Nardò e del Francavilla. A proposito del Nardò diremo che la panchina pugliese è stata affidata all'ex capitano del Campobasso Ciro Danucci alla sua prima da allenatore. Al momento il campionato di quarta serie è composto da 164 formazioni. Per la determinazione dei gironi di serie D sarà necessario attendere il completamento degli organici dei campionati professionistici verosimilmente verso la fine di questa settimana. Massimo all'inizio della prossima.